E' un futuro tremendo! La spirpe a cui appartieni verrà distrutta esattamente come è accaduto a noi! Osserva bene e soffri! Soffri come non hai mai sofferto! Adesso basta! Allora chi è stato a ridurvi così? Su, parla! Eh? E' stato Freezer? E' stato lui? Quella serpe ci ha traditi? Molto sangue scorrerà, perché ognuno avrà la sua vendetta. E' stato un po' di più!